Sì ragazzi, dobbiamo iniziare a parlare, caro Becca, proprio sì, proprio di Inter. Caro amico, ti scrivo ancora. Come ancora? Ma non abbiamo finito, no? No, no, un'ora insieme, un'ora insieme. Perché se no mi riprende quello là di fronte che dice che dormo, invece sono attentissimo. Sei tremendo, io te lo dico. Ti stai svegliando pian piano, ragazzi. È un vise, 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 è un vise. Sei perfetto quando finiamo. È il mio orario, dopo il salotto in poi. Il tuo jet lag post-festa Scudetto. Allora ragazzi, Tiago Motta l'abbiamo accantonato per un attimo, perché voglio appunto aprire quella che è la parentesi nero-azzurra. E leggete, no, il titolo, perché effettivamente è successo. Forse l'unica pecca che c'è stata in questi festeggiamenti dello Scudetto. No, no, la mucca non è una cosa da raggiungere. Beh, hai ragione. Ragazzi, dai, non scherziamo. Hai ragione. Hai ragione, hai ragione. La mucca dipinta di nero-azzurro in mezzo alla strada. Vabbè, era il guinzaglio dei suoi proprietari, dai. Ma ragazzi. Comunque sicuramente è più grave questa, vado a dire. Dunfris, scusa Conte Hernandez, ma la polemica continua. Ma ora, io immagino che tutti siate a conoscenza di quanto è successo. Comunque, per fare un breve recap, cos'è successo? Che Dunfris ha sollevato durante appunto i festeggiamenti questo manifesto, vedete la foto, questo striscione, eccetera, dove si vede lui che tiene al guinzaglio un cane con la testa al posto del muso di Teo Hernando. Se non posso dire una cosa. Se tutto, ragazzi, dobbiamo un attimo fare chiarezza perché tutto è nato da che cosa? Da una diretta Instagram che avevano fatto i giocatori, dove a un certo punto Lautaro inquadra il cane e dice... No, probabilmente, lui non ha detto il nome, però probabilmente un cane di Lautaro si chiama Teo. Ma a parte quello, Dunfris e Teo Hernandes... Bella roba. E l'abbiamo capito, ma uno potrà chiamare il cane come vuole. Dopo che hai perso sputti l'alto giocatore nel derby nel tunnel per andare negli spogliatoi, magari anche meno. No, però io voglio fare un discorso un po'. I video girano poi, eh? Io voglio fare un discorso un po' generale, poi ognuno la pensa come vuole. Cioè, ragazzi, noi vogliamo, oramai, in questo mondo del politicamente corretto, che sia tutto omologato, che non ci sia più fantasia, ironia, battute, cose. Cioè, poi alla fine ci seppelliamo con la nostra noia. Cioè, voglio dire, ma cosa c'è di così grave in una roba del genere? Non lo so, voglio dire, ma sono sempre esistite, Vittoria, queste cose, ma anche peggio. Ma no, però, ascolta, posso dittorlo da milanista? Posso dittorlo da milanista? Cioè, non è che questa cosa qua ha sposto più di tanto, cioè, non sono queste le cose gravi. Cioè, ma voglio dire, ma noi... Non sono queste le cose gravi che, secondo me, dobbiamo andare ad amplificare. No, del giudicare tutto. Io mi ricordo quando il Milan ha vinto la Champions, l'anno del... E invece l'Inter ha vinto lo Scudetto. Sì, si era fatto anche lì qualcosa che si andrà oltre le righe, ma ci sta... Ma ti ricordi lo striscione di Ambrosini? Ma esatto, a quello mi riferivo. Ma vittoria... Ecco, ci sta che ci evolviamo... Ma sei sicura che sia sempre un'evoluzione nel voler imporre a tutti comportamenti uguali come delle macchine? In natura siamo tutti diversi, abbiamo sensibilità, siamo diversi, non siamo tutti uguali. E ci può essere uno che ha un comportamento diverso e secondo me è chiaro che tu devi... Però devi dare il buon invento in questo momento, Paolo. Ma vittoria, l'evoluzione che c'è sicuramente è la tutela delle diversità religiose, gli orientamenti... Cioè, questo è una conquista ed è una cosa che chiaramente ci sta perché urta delle sensibilità. Ma ragazzi, ma qua siamo nell'ambito sportivo. Cioè, adesso noi pretendiamo... Cioè, che tutti... Ma tu vedi mai un tennista festeggiare così sull'altro a fine partita? Ci sono dei tennisti che fanno più casino di altri. Ma non ci fosse la signoridità di Sinner. C'è modo e modo di fare... Non sono tutti i Sinner. Non si può fare anche sfottò per dire in modo... Non so, vuoi prendere il bambolotto di Ternandez e portarlo in giro? Non lo fai. Ma l'immagini in questione. Capito. È forte, Paolo. Ma... Paolo è forte perché i bambini a scuola... Ma no. Che seguono il Milan e lì come no. Sì. E cosa fanno i bambini? Vanno dopo in giro a emulare... Fanno i frettini tra di loro e credono che sia roba normale. Allora, Francesco, quante cose succedono durante una partita che non dovrebbero succedere? Allora, c'è veramente... La partita, infatti, ma infatti la partita... Ma la partita è una cosa. A fine partita non dovrebbero succedere. No, la partita non è una cosa. La partita è uguale. Non puoi prendere uno striscione dalla strada con Ternandez con la faccia di un cane tenuto con un guinzaglio, con due corde, con uno con una mazza mesmo dietro al collo. Ascolta, però non preoccupiamoci... Cos'è? Non è istituzione alla violenza questa? Però, Francesco, non preoccupiamoci dei bambini, perché i bambini, secondo me... In generale, io prendo anche dei bambini. No, ma dico, ma in questi anni, purtroppo, nelle scuole i bambini, io mi preoccuperei per altri messaggi che passano ai bambini, però lasciamo perdere. Però, comunque, diciamo che di tante immagini, ragazzi, che abbiamo visto, secondo me questa è una delle immagini da incriminare. Poi... Ma non incriminare addirittura. Ma, beh, capisco, Paolo, il tuo punto di vista quando dici attenzione perché andiamo in una società sempre più contro... Ma non puoi essere tutto uguale, tutti... Lo dicevamo prima fuori onda, ma uno ha delle sensibilità diverse. Ma infatti c'è chi va in galera, c'è chi viene sanzionato e chi no. Sì, ma qui siamo nell'ambito dello spot on. Sì, ma se... Non è un reato. In mezzo a 300.000 persone, tutti sullo striscione, con un giocatore al collo, con due mazze da baseball, con una mazza dietro e le catene d'acciaio. Ti voglio dire questo. Usare, terminato? Ti voglio dire questo. Io direi... Io avrei vita. Io non l'avrei fatto. Neanche io. Ma non si può condannare uno. Per esempio, leggevo che a Mkhitaryan hanno dato... E l'ha lasciata. ...delle cose e l'ha lasciata. Esatto. Ognuno ha la sua sensibilità, hai capito? Ma infatti in base a quello che tu fai... Però non voglio mettere sull'agonia chi fa queste robe gogliardi, che magari a te non piacciono, ma è gogliardia. Scusa, ti faccio una domanda. Con i periodi di ignoranza che viviamo oggi in base al razzismo e a tutto il resto che c'è tra omofobia, sessismo, razzismo stesso, eccetera, eccetera, se la cosa l'avesse fatta al contrario Teo Hernandez con la foto di Dumfries, con la testa di Dumfries al posto del cane. Oggi di cosa parleremo? Io non avrei detto... Razzismo. Io sai, mi conosci, sono il primo che non avrebbe detto che Teo Hernandez è razzista. Non tu, no, no. Perché non è tutto razzismo. No, non tu. Anzi, io dicevo anche che non lo è nemmeno a Cervi, ti ricordi. Gli animalisti per la mucca tinta in quel modo, ovviamente, sono risentiti. Ma si può dire che a volte gli animalisti, come i nazi green, a volte rompono i maroni? Beh, se tu metti una pelliccia finta e ti dicono che sei uno dei mazzi animali, sì. Non puoi far più niente. Ma se tu vai in giro per Milano con una mucca dipinta di nero azzurro... Ma ho capito, ma io oggi, io oggi, venendo qua... Ci sta che sei al limite, no? Io stasera... Ma sono anche a Napoli, tra l'altro, lo scorso. No, ma ascolta, venendo qua stasera... Sì, ma è più grave lo sessione, fra... Venendo qua stasera ho sentito la zanzara che intervistavano l'allevatore. Han chiamato l'allevatore. E che dice? Ma dice che lui, voglio dire, quella lì era la figlia di una mucca perché quella, vabbè, si chiamava Ercolino, oltretutto. Ma c'era lui con la mucca? Eh? C'era lui con la mucca? Eh, c'era il figlio con un amico. C'era il figlio con un amico. E lui dice che intanto ha detto, ma guardate che noi gli abbiamo mica messo la vernice dei muri. Abbiamo preso delle robe da una parrucchiera. La tinta che si usa. E dice... Le mucche, giustamente, si tingono. No, l'ha detto. Già, non ho veramente, giusto anche tingono. E poi dice, guardate che, secondo me, cioè, sono contente se tu le porti in giro. Certo! Ebbè no, ebbè no! Ti ho riposto a te la mucca, ti ho dato il messaggio e ho scritto, guarda che ero contento. Mentre 305 mila persone! Ma no, ma ti giuro! Ma io ti riporto quello che ha detto lui! I miei zoccoli per Milano a camminare in mezzo alla gente che spingero, mi tirava le bottiglie d'acqua. Ma lui diceva... Ma no, ma lui diceva... Non vedo l'ora! Ma no, ma lui diceva... Ritornarci a fare una festa così! Ma no, Francesco, lui diceva... I primi anni che venga lì nel prossimo anno! No, ma lui diceva, per qualsiasi animale è più una tortura stare legato in una stalla. Ma ragazzi, ma non massacrato Buffon perché sul pullman a tirarlo per lo striscione 5 maggio, godiamo ancora, gli hanno rotto le palle per 3 anni... Ma io per il Rovenino, io mai... No, no, non tu, non tu! Però capisci che non si può paragonare questa roba a quella! Io non sono per il politicamente corretto! Perché ritorno alle cose giuste! Il bambino nella scuola vede 5 maggio, ci ride, dice 5 maggio... Ma non c'è una roba violenta sopra! È goliardia! Quello è sfottò! Quello sì! Lo sfottò è un'altra cosa! Quello sì, ragazzi! Tirare una banana a Dani Alves non è goliardia, è ignoranza! Vabbè, ma è ovvio! Fare sta roba è ignoranza pura! Eseguire le masse... Ok, ok, ma se tu mi dici è ignoranza, ti dico che hai ragione! Non è un'immagine violenta! Però non può essere tutto razzismo! Ma non è un'immagine violenta! No, non è un'immagine violenta! No, no, ma tipo Dani Alves perché è uno di colore, intendo dire... È uno stupido che gli tira una banana! Uno di tira una banana a Dani Alves... Sì, ma quelli che hanno fatto i bui a Udina e a Mignan, uno era di colore! Fate che sentire anche Becker, ragazzi! Era di cretini! Becker, tu che sposi noi, i colori interisti, come giudichi questo episodio da condannare? Era già chiuso perché D'Afri si è chiesto scusa subito dopo e penso quelli che vanno avanti per sei giorni... No, 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 ha detto che è stato un gesto ignorante ma non si è scusato! Comunque si è scusato! Ha detto che era stata una pillata! Non è, in verità! Beh, quindi però è peso quelli che per una settimana vanno avanti a sottolineare quell'episodio lì! No, io non credo, però noi dobbiamo fare una lezione! No, ma io non so con te! No, nel senso uno sottolinea anche per cercare di dare una lezione! Se un giocatore si è accorto che ha preso striscione, ha capito anche lui che non era una bella cosa, però ha chiesto che è stato un errore, sentiamo il professore che termina USA e poi per lui è finita! Ma è anche facile dire, ok, è stato un errore, la cittadina USA e lui è odio che è finita! E' mica fa il giornalista che ne dibattiscono lo studio! Teo Hernandez che all'anno dello scudetto tira fuori lo striscione, prende lo striscione dalla strada, la Coppa Italia e mettila nel... E' una cosa che non si fa, siamo al limite, perché sei in una libertà cittadina storica, però lì non c'è violenza! Non è contro un'altra persona! No, c'è ignoranza in quella roba lì, qua c'è violenza in sta cosa, è un'altra cosa! Secondo me sì, è più grave questo episodio, poi tutte e due ovviamente da mettere sul banco degli imputati! Andiamo avanti ragazzi, perché non è finita qua, se vi dicessi un quadrato scatenato e i tifosi della Juve... Eh, ma anche lì, anche lì! Via dal museo! Ma anche lì, ma è una follia! Ma viviamo in un'epoca dove, peggio del Medioevo quando mettevi le streghe a rogo, cioè c'è una voglia di punire le persone pazzesca, ma anche quello che ha fatto Quadrado, ma ha fatto niente, ma uno non può fare... Beh, quando hanno detto, chi non salta ai 29 è iniziato a saltare come un matto! Ma ho capito, ma non deve saltare! Ma Paolo, ma sono d'accordo! Paolo, scusami! E tu lo toglieresti dalla stella lì delle... Non ho detto questo! No, però non detto, eh! Loro, mica io! Sì, sì, no, però... Io non fiamo nessuna petizione! Però possiamo dire due episodi nettamente su un piano differente! Vi faccio un esempio, Antonio Conte vince lo Scudetto con l'Inter, esulta tutto l'anno a bordo campo, quando alla festa Scudetto lo mettono in mezzo e in Duomo gli viene chiesto di saltare a chi non salta bianco-nero è Antonio Conte non salta! Quadrado, posso dire, si è giocato in un anno senza giocare tutto quello che aveva di bello con i tifosi della Juve, ovvero le vittorie, le battaglie contro l'Inter che lui ha portato avanti soprattutto lui sul campo e sui social prima e dopo le partite, la questione Perisic con il rigore famoso del tuffo, la rissa con Lukaku l'anno scorso e con Andanovic nella serata dei bui Beotti dello Stadium verso Lukaku, esultanze sfrenate con bombolette di spray in testa d'Allegri a San Siro sul 3-2 dopo il gol di Guain ed è lui che fa il gol del 2-2 che mette a posto la parcè. Lui, se c'era uno che poteva evitare questa roba qua era proprio lui, adesso lui deve capire che intanto è permesso perché siamo liberi di farlo che uno nella propria vita decida di passare da un ristorante di quasi quattro stelle a uno di due, quello è permesso, va benissimo, mettiti anche gli occhiali, ma evita almeno di mancare di rispetto a quelli che ti hanno seguito per una vita e che ti vogliono comunque bene. Voi volete imporre... Quadrado non è un giocatore qualsiasi per la parola di Biuventini. Ascolta, ascolta, tu riesco a bene prima. Fai nel tuo! Dai, becca, dici, dici, becca, becca! Cos'è che hai detto? Dal ristorante decida di passare dal ristorante... Lui era in una squadra che aveva quasi quattro stelle e è passata da una che ne ha vinto No, ma ascolta, Francesco, però vedi? Vedi, Francesco? Ma no, ma non è come pensi, becca! No, no, è come pensi, anzi, è in caro a dosa, non sono neanche due! Aspetta, aspetta, ti voglio far notare una roba, tu hai fatto l'esempio di Antonio Conte, ma io sono per la libertà, ognuno ha la sua sensibilità, non possiamo essere tutti uguali. Nessuno ha detto quello. Cioè, perché se no noi vogliamo una società di replicanti, omologata. No, nessuno ha detto quello. Cioè, tutti uguali, i cloni... Però tu puoi spaziare in questa libertà. Ma vedi anche l'avia, perché a voi mi devi dire la tua. Ma ci sta pure. Perché non puoi esultare contro la tua squadra? Allora, anche dei giocatori di una squadra, quando segnano contro la loro ex, alcuni esultano, alcuni no. E ognuno ha una sensibilità diversa. Ma infatti... Ma non è uno giusto, uno sbagliato. Ma sta festeggiando, chi non è stato a Juventino è una roba... Cioè, per me, per me... Non è che sta rinnegando il suo passato Juventino. Ma poi, ti posso dire una cosa? Ma cosa stai dicendo, Lago? Ma stai schiazzando che cosa? Ma stiamo dando importanza a questa cosa qua? No. Cioè, due secondi fa, ma hai detto che dobbiamo essere... No, ragazzi... Io non so l'importanza quadrato, non ne avrei neanche parlato, me l'ha chiesto, rispondo. Aspetta, aspetta, io voglio dirti anche una cosa. Ma stai schiazzando che il quadrato può fare queste robe tranquillamente senza pensare che gli Juventini si incazzino? Sì, ma guarda che ci fa stare... Sai, Deppete, cosa ha fatto quando Mourinho lo voleva portare nel 2010 all'Inter a vincere la Champions? Cosa ha risposto? Io sto qua. Sì, ma ascoltate, Francesco, ripeto, queste cose, meno male che ci sono, perché sennò saremmo tutti uguali, no? Saremmo tutti uguali. Tutti faremmo le stesse cose. Mancio, scusi, manci. Mancio, dico, dico, meno male che queste cose ci sono, perché sennò saremmo tutti uguali. Tutti non esulterebbero quando segnano la loro ex. No, ma certo. E ti dico un'altra cosa, guarda che secondo me a Quadrado... Si parla di petizioni? Si, lo so, ma Quadrado, ma Quadrado secondo me è un po' rosica con la Juve, perché non gli ha rinnovato, hai capito? Certo. Cioè lui, a lui, lui è rosica un po' con la Juve, quindi secondo me... Ma un po'. Poi quando ha giocato all'andata là, io c'ero allo stadio, l'hanno massacrato. Certo. E non aveva ancora fatto niente, però. Ma sì, ma è andato via perché non gli hanno... lui voleva due anni. Ma probabilmente ha seguito lo storytelling di Quadrado alla Juve contro l'Inter negli ultimi cinque anni, allora? Perché se lo ricordano anche gli interisti, eh? Ho capito. Era definito un uomo di merda. Ma lo so. Ma lui? Lo so. Ma lui? Simulatore? Sì, ma lui... Vi ricordate dopo il rigore con Perisic? Ho capito. Quadrado in tendenza una settimana, per quel rigore lì. Ma lui rosica, lui rosica. Gli hanno scritto qualsiasi roba a lui, alla famiglia, alla moglie, alla figlia, ai nonni. Ma quindi lui fa bene, alla fine fa bene a fare quello che si sente, secondo me. Certo, però posso dirti che puoi essere anche etichettato in modo negativo? Eh vabbè, ma tanto non possiamo piacere a tutti questa vita. Ci mancherebbe altro. Ma chi è che vuole piacere? Non è questione di piacere. Non è che... Possiamo andare bene a tutti. Evaristo, giustamente, che arriva magari ad un altro periodo, secondo me in una situazione del genere... Cioè, gli hai dato del vecchio, praticamente. No, 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 da un'altra epoca. Un'altra epoca. Eh vè, eh vè. Perché? No, io... Perché ognuno... Allora, c'è un comportamento, c'è chi lo fa. Io quando giocavo con le mie squadre che facevo gol, cioè il mio lavoro, questo non vuol dire che manchi di... Che tu vai a cena con la tua ex moglie e ti faccia domanda. Ma se vai a cena con tua moglie, incontro la tua ex moglie cosa fai? Tutto e due... Gli vai a sventolare davanti che c'è la nuova compagna davanti, perché te lo si può fare. Non lo so, ma non si può, non è un paragone. Come non è un paragone? Si parla d'amore quando si parla di calcio. Sono robe di calme. È quello, il sentimento, il cuore. No, no, no. Il matrato è cuore per la Juve, adesso non lo è più. No, ho capito, ma... Perché si è rovinato con le pomme mani, non è una questione di... È my business. Ha fatto una cazzata, scusami Paolo. Sì, ma... Ma quando? L'altro giorno. Ma certo. Ma cosa ne ne frega lui? Ma infatti non si dice cosa ne ne frega lui. Ma dico, ma cosa ne ne frega lui... Ma a me non me ne frega niente di cosa fa Quadrado. Di avere il gradimento dei tifosi della Juve, che tanto l'hanno già massacrato all'andata, fischiandolo... Che avrebbe avuto nell'eternità un posto nel cuore di tutti i gioventini, fino a morte sua, fino al giorno del definitivo del... Cioè, lui era uno gioventino apprezzato da tutti. Ma no, perché... Cosa no? Nella gara di andata... Ma perché va all'Inter, Paolo, nella gara dell'andata massacro? Va all'Inter! Vai all'Inter! Ma dopo quello che fai e dici contro l'Inter per anni? Ma se la Juve lo manda via, non gli rinnova. Lui, cioè, dove deve andare? Al Borgo Rosso per fare un favore ai tifosi. Si è pronto di sassolida. Io e l'Inter, i miei genitori, per idee politiche, non hanno accettato miliardi di lira per non lavorare in certe situazioni. Quindi a me non me la cambi questa idea. Per me questo è quanto. Tu sei quadrato, hai fatto la storia della Juve, ok? Per me il saltello, chi non salta il Juventino è, col braccio, col doppio occhiale a stella, mi fa fare una figura che non dovevi fare. Ma a quei livelli lì non ragiona... Te la sei giocata male tu! Ma non ragiona più nessuno così, però, purtroppo. Io ragiono così. Eh? Io ragiono così. Ma sì, tu sì, no, ma io dico nel mondo del calcio. Lui non l'avrebbe mai fatto. Io dico nel mondo del calcio. Ma era un'altra epoca, c'erano altri valori. Tre anni fa non l'ha fatto Conte. Ma Conte, secondo me, non l'ha fatto anche perché lui si è pentito di essere andato via dalla Juve. Ha la Juve in testa. Secondo me c'è sempre ragione. E sicuramente non è nella stessa condizione di voi. Ma non lo fa! Ci fermiamo, ragazzi! Non lo fa comunque, non lo fa! Conte, non salta al chi non salta Bianconeroè. Festeggia, esulta come un pazzo, metterà mai dello scudetto, stappa champagne, ma al chi non salta rossone Bianconeroè non si muove. Ragazzi, apriamo un nuovo capitolo perché, appunto, sì, sempre l'Inter parliamo di Mubecca. Allora, non disturbo dopo, ti giuro. No, non disturbo mai. Abbiamo aperto gli telefoni per fare domande a Barzina. Ma infatti sono arrivata a me. In un'ora non è arrivata una. No, ascolta. Guarda, mi dai un ottimo... Per fortuna sono arrivate, ma lui è inquieto perché nessuno gli fa una domanda. No, Robita. Anzi, anzi. Aspetta, che ore sono? Non è il crollo... 23 e 27. No, non ho fatto la domanda. Che ore sono? Che ore sono? Questa è la domanda? Che ore sono? È il crollo... 23 e 28. È il crollo di una leggenda. Ti giuro, Subargisa, che non è il mio obiettivo. No, ascolta. Non devo telefonare. Perché adesso io ho saputo che c'è una domanda per Lavia, quindi ti supera anche Lavia. Che non è... Che non ha vinto Scudetti, non è stata una gloria. Allora, ragazzi, io me lo ricordo perché è vero. Adesso, appunto, abbiamo questa parentesi su Marotta, eccetera. Ma dopo questa parentesi rispondiamo alle vostre domande. 348-611-1411, il nostro numero, la nostra regione, soppertamente lo mette lì, fisto. Anzi, c'è già. Non avete scuse. Lo leggete. Ragazzi, veramente, veramente, io voglio dare voce anche a Beccalossi. Quindi domande anche per il Becca. Non sia mai. Perché poi nascono le gelosie, poi la devo consolare. Poi dopo chi non salta Beccalossi è, comincia così. Si fa le menate, si fa domande a pazisa. A tutti, a tutti, a tutti. Anche a Max Celabia, che non l'abbiamo citato, ma lui brama, brama di rispondere ai vostri quesiti. Non ci dorme stanotte, ragazzi, io ve lo dico. Usa termini senza troppe R, ne usi troppe. Brama. Mi raccomando. Anela. Anela, Anela, non va bene, niente R. Allora, allora, Marotta non si ferma. Ora l'obiettivo è il portiere Bento. Sì, ma ne parliamo da tanto di Bento. Tu hai sentito il cielo raccontato mille volte. No, perché praticamente lo seguono da più di un anno, Audero dovrebbe tornare, se riescono a prendere Bento o chi per lui non viene riscattato dal prestito alla Sampa e quindi c'è anche da costruire il Dopo Sommer, che comunque non è più un portiere giovane, e Bento che ha esordito anche con la nazionale brasiliana è del 99, adesso stanno trattando sul prezzo perché la richiesta è 20, loro vorrebbero offrire 15, però hanno già parlato con i suoi agenti, è una trattativa che va avanti. Ecco, come lo vedresti, Beto, come futuro portiere? Bento, eh, Bento. Qual buon Bento. Ti va bene così? Posso giocare ancora un annetto Sommer? Esatto. E se lo svegliate. Hai visto, eh? Eh, va perché è unici e mezza. Quando manca mezz'ora alla fine, si riprende la bocca. Il portiere titolare, il primo anno si diventa e poi dopo è strada aperta. Quindi comunque lo vedi bene, al di là dal punto, un anno di rodaggio gli dovresti dare, dici? Rodaggio no, inserimento si chiama inserimento. Inserimento, perdonami, inserimento. Però non so fare una macchina per il rodaggio. Eh no, ragazzi, qua mi state dicendo, il Bec è un diesel, deve carburare e subito voglio inseguire la metabola dell'autovettura. Motoristica. Scusa, una domanda io per Bargigia? Sì. Al volo. No, la prima domanda. Eh ma dopo lo mandi. Al volo, al volo, al volo. Tu che sei, sei bene queste cose. Quando ha firmato il contratto giuntoli con la Juve? 7 luglio? Era luglio, era luglio, era luglio. Bene. Non so il giorno, non lo so. Perché pare da quello che ho cercato, pare il 7 luglio, però non ne sono sicuro io. La certezza è che UEA firma il contratto con la Juve fino al 2028, quinquennale, il primo luglio 2023. Quindi sei giunto il Rival 7 e l'ha fatto una manna. No, no, ma io te lo assicuro. Ti ho detto che ti scommetto una cena. Come faccio un'altra cena con te? Quindi non l'ha fatto neanche quello? Sì, nello spiegarti che le cessioni, Arthur eccetera, le ha fatte invece giuntoli perché sono avvenute dopo. Guarda anche quello. La riduzione dei costi. Per me le ha fatte prima e le hanno depositate dopo. Visto che ovviamente... Zaccaria e Kurusecki sono usciti prima. Vabbè, è ovvio che... Rabiot ha rinnovato prima e quindi era manna. Ma fanno anche così dire. Cioè Kurusecki, Rabiot e Zaccaria li ha fatti sicuramente manna perché erano precedenti. Non so, a tutti gli effetti Arthur che in effetti è stato prestato alla fine. L'ha mollato, l'ha fatta lui l'operazione, l'ha fatta lui. Come ha fatto quelle col Frosinone. Perché tra l'altro nella foto di presentazione di UEA ci sono giunti da destra e manna si vede. Sì, è chiaro, però la trattativa la fai prima, no? No, no, certo, la trattativa la fai prima. Comunque ti volevo dire una cosa tecnica. Sì. No, no, perché Scesni al 95% non andrà via dalla Juve? Perché intanto con l'ingaggio che ha ed è un anno dalla scadenza non trovi un club disposto a pagare il cartellino e dargli un ingaggio così alto. E non è neanche nell'interesse di Scesni, perché l'anno prossimo va sul mercato a parametro zero e può spuntare quello che vuole, capito? No, no, ma però secondo me la Juve pur di levarsi uno stipendio di 6,5 bonus per prendere uno che ne guadagna 1,5 capisci che se anche uscisse a 5 milioni lo fa. Però ti faccio una domanda. Scesni comunque lo perdi, no? Perché comunque ha un ingaggio alto, ha una certa età, basta, ha finito un ciclo. Però tu vedo che sei dubbioso su Di Gregorio o Carnesecchi, che è un altro che piace. No, Di Gregorio e Carnesecchi sono ottimi i profili. Eh, ma dico, eh, perché sennò che partirei prendi, non è che... Però ragazzi, ti presenti la Juve e fai fuori Cesni e prendi Di Gregorio e Carnesecchi. Io lo faccio subito. Eh, ma non è che lo fai fuori. Ma lo fai subito per Carnesecchi o per Di Gregorio? Io tutti e due li conosco, Carnesecchi e di Colander di Sommet. Dei due dovessi scegliere? Eh, Carnesecchi. Perché tra i due ho avuto più a che fare di Carnesecchi. Sono bravi tutti e due. Però se tu mi facessi il discorso che prendi uno di due per affiancarlo al titolare un anno, come si fece con Buffone e Cesni, allora puoi vendi Cesni, va bene. Se tu quest'anno ti presenti con Perin, che io adoro, e o Carnesecchi o Di Gregorio... No, 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 no. No, ma la ricerca di un portiere... No, ma però nel posto di Perin... No, ma da quello che ho capito io, Francesco, la ricerca di un portiere avviene solo se Perin chiede di uscire per andare a giocare. Ma Perin, secondo me, non chiede di uscire. Senore, allora restano così. Perin sta bene alla Juve. Allora restano così, fidati. Allora, no, però invece, visto che siamo nel blocco Inter, qualche nome magari... E si parla di un'eventuale grande gestione, che può essere Barella-Bastoni? No, 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 dunque, l'Inter non vuole toccare il suo centrocampo, quindi Barella-Bastoni, Michi, Tarian, Frattesi... Tu dici che non c'era nessuno. No, 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 non sono sul mercato. Si è parlato di un mercato creativo. Sì, l'ha detto Marotta, ma creativo vuol dire fare le operazioni come hanno fatto Zieninski, Taremi. Intanto Beccarossi fa una sua trasmissione da solo, però fa niente, va bene, ok? No, 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 no. È geloso, è geloso, tu non ci pensavi, eh? No, 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 vabbè, magari... No, cioè lui quando parlo io... No, ma perché quando parlo io, lui in automatico parla col vicino. C'è la credine stasera. Sì, no, è incredibile, è incredibile. Cioè magari uno dice, sai, magari su cento cose ne dice una che potrebbe... Paolo, a di là, se no, pensa che qualcuno litighiamo davvero. No, ma che litighiamo. Ma è tanti anni che ti conosco, va bene così perché è già tanti anni che... Ma non abbiamo mai litigato, non abbiamo mai litigato. Poi si incrociamo anche al mare, pensa che... No, mi stava dicendo una cosa ormai data in prescrizione sul mercato del passato di un giocatore. No, ma io scherzo, volevo... Non te la chiede allora, Francia. No, no, il mercato dell'Inter, dicevo che non ci sono possibilità che vendano un centrocampista perché è il reparto più forte, è la peculiarità e non vogliono toccarlo. Chi c'è sul mercato è Dunferis, che non sta rinnovando. E se sarà ceduto proveranno a prendere un altro esterno. un esterno destro utilizzando Buchanan magari a sinistra e facendo fare a Cesare Augusto magari il centrale perché in verità loro o fanno sta mossa o se no cercano un centrale a parametro zero che potrebbe essere Nacio del Real che abbiamo trattato quest'estate vai in scadenza con l'Atletico poi magari ha delle richieste di ingaggio oppure Hermoso dell'Atletico ma se non vendono Dufris non fanno ste robe e poi prenderanno un quarto attaccante l'hanno detto ma non è Nezzerze non è Gudmundson perché comunque sarà una riserva quindi tipo? ah no vabbè bisogna trovare giocatori a parametro zero che costino poco onestamente nomi so che gli hanno offerto Marziali in scadenza ma loro non lo vogliono perché comunque ha un ingaggio molto alto scusami un attimo Paolo Becca tu quest'anno tu Inter quest'anno abbiamo visto che non ti sei giocato la Champions o perlomeno sei uscito in un modo come prima ricordata Francesco abbastanza diciamo si poteva passare ma non ho petto i miei maroni ti deve dire il prossimo anno ci dobbiamo riscattare per quanto è uguale la Champions ora tu che acquisto di mercato potresti fare per andare a colmare quel gap che in questo momento ti divide così tanto dalle internazionali internazionali hai già in casa il presidente secondo me sono stati fenomeni in questi anni perché non c'era non c'era grande disponibilità quindi riuscire a rimanere competitivi comprando tanti comprando portando a casa a parametro zero e tenere una squadra chapeau non c'è molta disponibilità quindi chi è lì c'è grado di fare dei miracoli perché è chiaro che sono tutti confermati nessuno vuole andare via adesso la rete del mercato scopre che Danfri si vuole andare via no bene sta rinnovando è uno di quelli che venderebbero volentieri ma se lo chiedi al dirigente lì però frattesi pavarli pagati non è un segreto anche cari no però credo che allora però vi dovete mettere d'accordo perché prima si è dato via a Lukaku perché c'era problemi di soldi 115 milioni di euro in verità è Lukaku che non ha voluto più venire e loro hanno detto che è stata una fortuna Paolo però la prima volta ha dovuto andare via se no ti faccio lo schermino visto che a una certa ora la prima c'è ma l'han venduto la prima la prima anno il primo giocatore incendibile dell'Inter era Lukaku ha dovuto andare via perché c'era da portare a casa 100 e passa milioni di euro ok adesso mi risulta per quel poco che so sicuramente ne sai di più te che nessuno si vuole muovere anzi qualcuno se arriva anche qualche richiesta sono pronti anche a abbassarsi a livello di ingaggio pur di rimanere all'Inter quindi è una situazione che è bella anche da affrontare facciamo una domanda Beca che esula un po' dal mercato però si collega a quello che ha detto sull'acquisto che avete fatto di Frattesi se non è Frattesi sopporterà ancora un altro anno fare il subentrante ancora il suo futuro all'Inter per Anzi e quindi non sto dicendo che deve andare via sto dicendo farà un altro anno così perché è il più grande così cosa l'Inter Anzi secondo me è il caso quando un direttore dice sono tutti confermati nessuno deve andare via però se capita dalle situazioni l'hanno dimostrato perché tutti i fenomeni che parlano io ero fermo che l'Inter se l'è indebolita con la perdita di 5 assolutamente ma siamo d'accordo quindi sono stanco adeguarmi quest'anno ti è andato tutto bene che ha il pieno vinto con 17 punti Frattesi è uno dei più grandi acquisti parli anche che è andato tutto bene no che è uno dei più grandi acquisti che ha fatto l'Inter però è sempre subentrato cioè quindi sono te un ragazzo che è stato il migliore acquisto delle cose adesso capisco adesso capisco perché ascolta ascolta capisco perché sei un stato stato spieghiamo a Max tu Frattesi arrivi dici Mkhitaryan c'è una roba ma spieghiamo a Max io non lo so se quest'anno Frattesi accetta ancora di fare il panchina io qualche dubbio ce l'ho scusami quest'anno va bene da ne ho arrivato va bene stanotte non dormo chissà no ma ne ho arrivato va bene in conclusione ma ce l'ho spiegato una roba Frattesi è stato preso perché ovviamente Mkhitaryan cioè che comunque ha fatto rinnovo cioè non è che gioca in eterno ha 34 anni quindi voglio dire ci sono più partite Paolo guarda che lui viene da una stagione un po' quindi accetta un po' disorientato eh sì non lo so comunque non sei molto no no vabbè però cioè secondo me Frattesi cioè non è accetto no quando ha scelto l'Inter lo sapeva cioè non è che no secondo me quando ha accettato l'Inter secondo me Frattesi pensava di giocare di più poi dopo è andato tutto bene ha vinto lo scudetto ha vinto lo scudetto quindi va bene tutto va bene passa tutto in secondo piano secondo me l'anno prossimo Frattesi non accetta di fare una campionata e cosa fa ma detto da te ma comprimati non è contento di fare un campionato ancora così Frattesi dopo il primo anno dell'Inter dove è il secondo di Barella c'è la Noglu e Mkhitaryan quest'estate torna la pinettina e dice io punto i piedi se non gioco non punto i piedi non sto dicendo io non ho detto questo sa cosa fa finisce al Padova ma l'Irpinia io non ho detto questo io dico che secondo me se poi l'Inter non vince Frattesi qualche mal di pancia ce l'ha ma allora allora Frattesi è un giocatore da Inter per i prossimi dieci anni c'era una domanda una domanda su Scamacca Scamacca all'Inter no Scamacca all'Inter anche perché se ti prendi lui puoi vendere barelle l'Atalanta non vende Scamacca che doveva andare all'Inter in estate e poi l'Atalanta lo ha pagato di più ma adesso non lo vende sicuramente ecco allora ragazzi io vi dico soltanto che adesso noi ci prendiamo due minuti non è la regia ma in questi due minuti voi dovete letteralmente intasare la nostra casella di Whatsapp 348 611 1411 perché abbiamo 20 minuti 15 diciamo 15 abbondanti dedicati a domande per Beccalossi io ho un'idea tu avevi il nome del proprietario della mucca? no non sto scherzando no ha fatto un'intervista e non me lo ricordo alla Zanzara bisognerebbe chiedere dovresti chiamarlo non possiamo fare l'intervista in un secondo per sapere come si è trovata la sua mucca in mezzo ai petardi e alle vernici per 8 ore 10 ore per capire se abbiamo il numero chiediamo se possiamo chiamarlo gli tiriamo delle secchiate addosso petardi lo mettiamo per terra e poi vediamo se sta bene tremendo io vado a Raffica voi risposte secche c'è anche poi un messaggio per te Becca dopo le leggere no io ne ho 5 e Baggigia 1 una domanda per Baggigia Tiago Silva svincolato anche se è 39enne potrebbe essere un'occasione per qualche club italiano Francesco da Roma assolutamente no ok anche perché se vuole giocarsela va in un posto dove gli danno stipendi importanti in campionati sempre per te non impegnativi ora che Lopeteghi sta scendendo come opzione per il Milan visto tutta la giusta rivolta dei tifosi chi è il favorito? ma come Fabio l'abbiamo detto fino ad ora chi è il favorito? no stanno provando stanno provando con De Zerbi però non trascuriamo sullo sfondo ovviamente Fonseca poi se non hanno fretta di decidere vogliono seguire l'evoluzione Tiago Motta Juve perché no cioè comunque era già stato nei pensieri del Milan ma diciamo che non hanno ancora le idee chiare stanno lavorando ottimo Mark ci scrive buonasera sono Marco da Lugano super tifoso dell'Inter un saluto a tutti un grande al nostro Becca che ho visto giocare dal vivo da ragazzo a mio parere oltre a Dunfris bisognerebbe vendere Barella a fare un bel cassetto immagino tesoretto magari vabbè T9 e far giocare ai frattesi no grazie che mi ha visto dal vivo cioè che ne pensi che ne pensi dal vivo dal vivo va beh è specifico senti vendi Barella e fai giocare ai frattesi che ne pensi li tengo tutte e due va bene finché ti vede da vivo va tutto bene vogliono tenere tutte e due con Barella l'anno prossimo stagione in corso ci sarà anche il discorso del rinnovo del contratto Fabrizio domanda per te ho letto di una possibile permanenza di Allegri cosa dici in merito? anche qui non ci sono certezze tutto porta ad un suo allora mi chiamo Mario si parla tanto del nome attaccante del Milan quindi vado da Labia quando poi a giugno rientrerà colui il quale dai milanisti venne ribattezzato come la leggenda del Liverpool parlo di Orighi ah bene questo dovrebbe dire a chi è che lo ripiazziamo Orighi non lo so questo non credo che rientri nei piani sicuramente no quindi troveranno qualche altra soluzione per farlo Fabio per Paolo al Milan un'occasione come Sarri o Gasperini non è possibile? Gasperini sta rinnovando con l'Atalanta e Sarri non è ritenuto l'allenatore giovane fra virgolette che dà delle garanzie anche perché al Milan si è capito vogliono dipendenti che non mettono interlocutori che sposino progetti non difficili da gestire anche per quello il discorso di Conte domanda per Francesco Pini però ti merita Conte dava fastidio Maldini perché era uno che vorrebbe pensare in modo autonomo ecco per spiegarlo domanda per Francesco Pini da Piercarlo da Alba nonostante tutti dicano Tiago Motta alla Juve io sono stracovinto che arriverà Conte ad oggi le probabilità che Conte arriva alla Juve sono pari allo 0% ecco purtroppo purtroppo aggiungo perché io sarei il primo ripeto la mia tesi se io devo salutare Allegri mi prendo Conte se no mi tengo a lega ok sono Stefano vorrei sapere cosa ne pensa Evaristo eccolo il becca di Valentin Carbone Carboni sì Carboni scusate mi ha scritto Carboni ho letto quello che ho scritto è vero è nel pieno proprio bisogna dargli fiducia un ottimo giocatore un po' mi ricordo il becca Mancino vabbè calcio mercato Juventus per Bargigio ma ragazzi l'abbiamo parlato veramente fino ad ora siate specifici siate specifici lo scrive signore della mucca no ci presento allora Tiziano forza Roma per giovedì non sono d'accordo con quello che ha deciso la Lega Calcio Tiziano eh piace purtroppo per la Roma un tour de forza però causa calendario Antonio da Firenze domanda per Francesco Pini prendendo Motta non rischiamo di perdere tre anni senza vincere nulla Conte sempre assolutamente sì ma è già successo con Allegri che non hai vinto però infine sempre Allegri ancora di giocare notizie sul dopo Julic ce lo scrive Giorgio da Torino beh io avevo sentito italiano a Torino penso Gazzuso penso Gattuso penso Gattuso c'è una trattativa con Gattuso vorrei bene anch'io Gattuso allora può essere un cuore granata più Gattuso di Palladino di altri vado da Max Labia Matteo da Chiavari in questo Milan gli esterni rimangono sempre troppo larghi ho l'impressione che uno come Chukwez sarebbe più imprevedibile se si accentrasse perché ha tecnica nello stretto no assolutamente Chukwez abbiamo visto che ultimamente era quello più in forma quando ha giocato sulla fascia quindi assolutamente deve rimanere sulla fascia e può essere che l'anno prossimo possa diventare una pedina importante perché se le premesse erano queste da fine del campionato potrebbe essere un nuovo acquisto per il Milan Chukwez Chukwez mi ricordo a quattro dei primi tempi a me ma secondo me lui ha fatto bene Umberto che scrive per Becca volevo fare una domanda al mitico Becca secondo te l'addio di Conte è stata la fortuna dell'Inter? Umberto da Perugia no lui parla ovviamente io immagino faccia riferimento al risultato poi di Zaghi no sono due credi credo calcistico diverso Conte ha vinto anche lui in un momento che era particolare è stato un grande campionato e Simone poi grande anche lui perché con caratteristiche diverse il modo di giocare diverso da Conte sta ottenendo e visto che sono da te Khaled ti chiede che cosa ne pensi di Lorenzo al posto di Dunfriss aspetta un attimo Paolo ti ho già superato in un attimo sono cinque domande non è che ti offendi no cavolo mi sta raggiungendo no non è detto che Dunfriss vada via no ma secondo me lei scusa ma come si fa a scrivere sì no l'ultimo giocatore però Dunfriss credo che rimanga i pareri possono essere di ognuno come si fa a scrivere che Conte che va via dall'Inter ma ragazzi l'Inter non vinceva niente da dieci anni Conte arriva e gli dà la mentalità gli dà rigore ordine mette lì una formazione che gioca a memoria sai cosa io l'ho vissuto anche quello sai cos'è Francesco vincere in quella situazione perché si dimentica che c'è la Covid quindi giocava con lo stadio vuoto e lui è uno che se fosse certo con i tifosi così ma perché ha fatto anche una finale Europa League tanto per dire un'altra quindi non è proprio ma come si fa a dire che Conte Inzaghi ha perso due scudetti ragazzi o tre no no sono d'accordo vabbè e anche questo la bellezza del calcio fare fare volemica c'è chi è che ti ha riportato lì fra I know I know lo so Fabio da Genova per Paolo è possibile la partenza di Leao per fare cassa al Milan e rinforzare la squadra? credo che quest'anno non partirà Leao a prescindere da una clausola altissima però credo che non sarà sacrificato Max Lavia buonasera gli acquisti del Milan della scorsa estate quindi vedi Pulisi Cereners Cucuese eccetera 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 tutti sicuri di restare? Francesco ce lo chiede sì secondo me diciamo alla fine hanno reso quasi tutti quindi dobbiamo solamente adesso cercare di integrare quella rosa scusate che parla Stefano Peremaristo parlo parlo al mio pubblico basta domande a sottoscritto fate la pazienza poi mi dorme male i vecchi acquisti della scorsa estate si rimarranno tutti confermati ah ok confermati o no ma tu hai risposto che hanno risposto bene? quasi sì dice Max Lavia Pulisi ha fatto l'annata lui si è la migliore in tutti gli ultimi anni poi Rinders ha giocato bene Cucuese nella parte finale ha giocato bene cioè mira fuori dalla Copitalia fuori dalla Champions fuori dalla Europa League fuori dalla Champions fuori dalla Copitalia fuori dalla Europa League secondo in campionato come siamo andati fuori a 20 punti all'Inter fuori dalla Champions però hai perso la titola di trattarmi quest'anno ha fatto benissimo 130 milioni di spesi va bene secondo in campionato 130 milioni di spesi Max sono messo cioè sono gli acquisti che hanno dato il loro contributo Becca Stefano ti chiede chi vedi come tu erede in questa Inter Campione d'Italia chi vedi come tu erede in questa Inter Campione d'Italia è un caso completamente diverso però io vorrei che se tornassi un po' valorizzare i giocatori bravi tecnicamente in quel ruolo lì c'è Gino che ti vuole provocare Franci e scrive per Opini conte sarebbe un'altra minestra riscaldata e lo scrive una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette volte io la mangio spesso la minestra riscaldata buonissima anzi più buona il giorno dopo che prima non la minestra però buonasera mi chiamo Antonio da Cesate provincia di Milano volevo fare una domanda a Paolo Vargigia qual è l'allenatore della Juve l'anno prossimo al cento per cento addirittura ti chiede no non c'è una risposta se c'è cambio secondo me se c'è cambio è Tiago Motta ci può essere una possibilità davvero se Motta non dovesse accettare il progetto se le cose precipitassero con Allegri ci può essere un'alternativa piccola con Palladino o con Gasperini se non rinnova però se cambiano l'indicazione Tiago Motta ma non al cento per cento oggi Giorgio ma buongiorno resta il Toro Giorgio da Torino non è certo che resti al Toro però ha un costo molto alto 40-45 milioni secondo me in Italia in questo momento solo la Juve può avvicinarsi se cede Bremer a mercato all'estero sono già due sessioni di mercato in cui Buongiorno sta per partire poi in estate sceglie lui di non andare all'Atalanta a gennaio Cairo mette le condizioni per non far andare al Milan secondo me se si riproporrà una terza volta credo che Cairo questa volta lo farà partire Francesco Pini ciao buonasera ciao buonasera Sergio ci scrive ciao Sergio Chiesa e Vlauic andranno via chi è al loro posto? no non lo so spero di no ne abbiamo parlato prima Chiesa vuole rinnovare vorrebbe 7 milioni la Juve non gli vuole rinnovare il contratto con le cifre perché lui prende 5 e mezzo e quindi o troveranno un accordo dopo la scelta dell'allenatore prossimo per la stagione successiva oppure penso che Chiesa potrebbe essere anche a rischio di cessione che si sta a te